...di piano, tastiere e voce, quindi mi raccomando state bassi con il volume, non parlate molto forte, perché vi faranno un brano, arrivo arrivo, un brano meraviglioso che si intitola Mad World. L'emozione non è questa, si è fatta sempre con questa memoria, ma non è questa, c'è l'emozione, facciamole un applauso. Allora, le ricercche al piano, Jackie Q alla tastiera e Simone Cilli alla voce. Il brano è Mad World. Grazie. 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 Grazie.